Per un momento mi dissocio da quello che è il mio ruolo ufficiale istituzionale di Presidente regionale del Tennis Tavolo e come tifoso giuventino da almeno 60 anni mi è venuta in mente una cosa che ho da almeno 10-12 mesi da dire. A mio parere Manolo Gabbiadini è il terzino sinistro che la Juve sta cercando ormai da 5-6 anni con un buon lavoro psicologico per convincerlo e un'accortezza tattica. Lui sarebbe incredibile. Provate a pensarci. Grazie e buon Natale.